Era nato a Trieste nel 1927, Ugo Guarino, disegnatore ed illustratore, morto oggi a Milano. Conosciuto soprattutto dai lettori del Corriere della Sera per il tratto semplice, diretto e poetico, Guarino era arrivato nel capoluogo Lombardo nel 1952. Dino Buzzati lo scelse per illustrare le cronache della Domenica del Corriere, Guarino però rifiutò l'assunzione, voleva sentirsi senza legami. Girò un po' per il mondo, Parigi, che non gli piacque, New York, l'insegnamento in un'università del New Jersey, le mostre. Il rientro in Italia lo vede a fianco di Franco Basaglia nel progetto Liberare i Matti, con la direzione della scuola di pittura dell'OPP. Anni dopo, di nuovo al Corriere, con Indro Montanelli, ne illustra la stanza ogni giorno. Lo scorso anno a Revoltella, la mostra all'alfabeto essenziale di Ugo Guarino, Trieste gli rende un omaggio meritatissimo.